Meglio perdersi viaggiando che non partire mai. Su uno striscione il messaggio per ricordare i quattro ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo del ponte Morandi a Genova. Andavano in vacanza a direzione Barcellona. Per uno strano scherzo del destino c'era stato un improvviso cambio di programma all'ultimo momento. Niente più coste del sud tra Cilento e Calabria, ma voglia di nuove avventure all'estero. Almeno in 600 ora hanno chiesto giustizia attraversando in un clima di grande commozione in un silenzio irreale le strade del paese vesuviano. Il sindaco Giovanni Palomba ha confermato che la città terrà vivo il ricordo delle vittime con un monumento cimiteriale che in parte ricalcherà nella forma il ponte di Genova. Sarà così onorata la memoria di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Noi a sette giorni già abbiamo presentato il progetto per quanto riguarda il monumento per ricordare i quattro ragazzi. Stiamo cercando di mantenere la tranquillità perché non è facile. Anche il sindaco ha partecipato alla fiaccolata. I familiari delle quattro vittime hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. A parlare è stato l'avvocato dei genitori di Battiloro e Bertonati. Le famiglie vogliono soltanto la verità e nient'altro. Oggi è un momento di dolore e stiamo piangendo questi ragazzi, questi morti. Speriamo che in futuro non accadano più queste cose perché in un paese civile come il nostro, in uno stato di diritto, non devono succedere. Noi cercheremo di arrivare fin dove ci sarà possibile e dove i nostri mezzi ci consentiranno. Per Torre del Greco è un'estate nera. Un altro dolore, l'addio all'avvocatessa Imma Marrazzo, 42 anni, la sua vita spezzata nell'assurda tragedia del Pollino, si sono salvati il marito e i due figli minori. Applausi e lacrime all'uscita della bara dalla basilica per un'altra vittima innocente.